Benvenuti in questa nuova challenge e questa volta faremo la Egg Roulette Challenge ovvero uno per uno prenderà queste uova che ne sono 30, 15 già sono state cotte e 15 sono crude le dobbiamo schiacciare in testa e se ci dice bene sono cotte, se no ci cade l'uovo crudo in testa 3, 2, 1, vai! vabbè, siamo! wow, piano! piano piano si è visto adesso lo continui, vai! vai! chiuda! è citata! mi dico io! guarda qua però! che culo! dai, dai, dai! dai, dai, dai! dai, dai! dai, dai! dai! dai, cuda! vai, non mi schicciare! vai, cuda! Vabbiamo così! 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 È cruda! Uno, due! E no, però così non te va in testa! Si voglio in testa! C'è un occhio in due in testa! E' scherito! Dai, via, via! Vai! Ma se ne va dopo? Se ne va dopo! No! Questa è andata sull'occhio! Vai! Cruda? E' cotta, è cotta! E' mezzo crudo perché è uscito qualcosa! Il cucino! Vabbè, è un russoso! Quanto cosa fai? Girono il mondo! Ci sono davvero, mamma mia! Questa è la gente! Piano, eh! Piano, eh! No, Elio! Vai, porta secca! No! No! Vabbè, basta tutto! Unchirate! Unchirate! Sta tutto qua! No! No! Aspetta! Quello vicino a lui lo fa l'altro! Come così, dai! Che stile, no! Non so quanto devo fare forza! MESSICA! Eh, guarda! Edio l'ho panciata! No, qua si è con i fazzoletti, oh! Ti mazzo! Edio! Edio! Edio, che fa panciata! Eh, questo... Brutta! Piano, Edio, che se lo schizza mio dietro! Piano, Piano! Piano! Piano, Piano! 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 Pianco! Vai fammi, ti fai la gian gian Sai che sta sull'occhio? Ma ora! Oh no! Ah, fatto! No, la mano! E' cotto! Ahhhhhhhhhhhhh Ma se ma sei uguale? Si si è cotto Me lo sto io, è mi gna gna È mi gna gna E' cotto! Ohhhhhhhhh Guarda, guarda Ma non abbiamo, non mi racconto, non mi racconto Non mi racconto, non mi racconto No, non mi racconto No, ti fa scimone Andrea No, va, ti faccio giù Che buccio! Ah, tutti cotti! Due su due Andrea, oh! Che curo Ah, cotto Uhhhh Ahhhhh E' freddo! E' un toglione! E' conto, è conto! E' conto! E' conto? Nooo! Angela, Simone, Angela, Simone Angela, Simone No, Simone, mi fai male! No, dai, mettete giù E' sotto, è sotto E' sotto Si vuoi ancora un bia, eh? No, o cambi? E' sotto E' sotto Aspetta, vai così No, diventi in mano qua! E' sotto E' sotto E' sotto E' sotto E' sotto Che culo E' sotto Tutte e due, è andreggiata a due bucci di culo Amore, Angela Già, vabbiamo No, Gesica No, chiudi gli occhi e gira Guarda a me che baciano, tutti i puliti E' barino Vai Questo, Già, due su due Vai, Già Ma perché glielo fai? Che glielo fai qua solo Guardi 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 E' la sparta Ha detto che l'ho fatto Ok Io per quello non ho voluto fa Io per quello non ho voluto A straccio il braccio Si Oh, che culo Arto tutti i soldi al tuo mare, guarda Arto tutti i soldi Andrei, Andrei, io devi farlo pulito, eh Non so vai, Andrei No, lo risca io Si, vuoi vedere peschi dentro, lo faccio io, vai mamma pulisciti pulisciti è l'ultimo per Andrea, ditemi un po' se l'altro vai ma schizzare dai, dai dai, no schiacciamolo qui, no qui perchè dopo ho tutto diello, qua su no, viene un attimo ma è crudo guarda vai, chiudete gli occhi, Angela Angela, Angela, Angela Simone, mischia Angela ancora ne ha preso, Angela è già è questo, è questo è Luca è crudo 3 2 1 ma hai fatto a me, ma hai fatto una Angela è un mangio piano non voglio me la farmi da me uno, vai, uno normale, non lo fate ma hai fatto io piano tu fai fatto, è lì è normale così si fa io lo voglio solo dove lo fa? vai, guarda, chiudi la cosa io voglio dire quello che è no, io non lo so è quello, è quello è quello è quello è quello è quello è una le balle li fa non fai puo aesco le mani 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 aia ma perché si è fatto di schiacci no 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 questo lo sapevi ah lo ho preso faccio un bel tono con noi voglio un shampoo shampoo via via sempre insieme guarda i capelli guarda i capelli oh io ho un ah no non l'ho preso il quarto no va me l'hai fatto no che schifo fammi bene Elio la mano fammi bene mischia ahahahwe ma in te due facciamo amore adesso non vedi che lo schiaccio ahahahahahahahahaha ahahahahahahaha ciao raga e cosa la bella però sui trenti uomini Ciao, ciao, ci vediamo nel prossimo video, ciao! Buon tutti i godi!